un saluto a tutti gli amici di androidworld.it siamo ancora lo stand intel perché intel perché questo nuovo asus phonepad 8 ha al suo interno un processore z 35 30 quad core da 1.3 33 gigahertz a 64 bit un processore quindi intel un gigabyte di ram 8 gigabyte di mora interna android fit cut schermo 8 pollici risoluzione 1280 per 800 pixel quindi hd fotocamera vg ad avanti fotocamera da 2 megapixel nella parte posteriore a un peso di 330 grammi certo forse a nostro giudizio c'è un limite per quanto grosso questo è un dispositivo in cui telefonare portandolo all'orecchio ma questo memopad 8 probabilmente lo vuole superare lascerà poi a voi il giudizio se se può funzionare o meno l'interfaccia è la zen ui sopra android kit kat 4.4.2 suppongo in realtà è una supposizione che andiamo però subito a verificare 4.4.2 esattamente questa è solo una rapidissima anteprima qui da ifa 2014 per asus phonepad 8 è tutto un saluto dai mamma le cisotti e nicola ligas